In questo video ti parlerò nel dettaglio della seconda delle tre parole chiave del nostro metodo valuto valorizzo vendo che ci permette di vendere velocemente le case dei nostri clienti e farli felici. Ciao sono Eleonora Valente titolare della Modo Immobiliare di Vicenza e oggi ti racconto cosa intendo per valorizzare la tua casa e ottenere il massimo prezzo vendibile. Ti faccio una domanda se devi vendere la tua auto la presenti così com'è o la porti a lavare dentro e fuori tutta profumata che appaia nella sua forma più smagliante cosicché il probabile acquirente ne abbia la migliore impressione e non tiri sul prezzo giusto? Oppure se hai un importante colloquio di lavoro e indossi il tuo completo migliore vero? La stessa identica cosa vale per la tua casa. Quando vendi la prima impressione fondamentale e può determinare il successo o l'insuccesso di una vendita veloce e al miglior prezzo di mercato. Hai mai sentito parlare di home staging? L'home staging è la professione che si occupa di rendere più accattivante una casa per i suoi possibili compratori. Noi di modo immobiliare siamo in grado di affiancarti due professioniste del settore Lucia Baù e Susanna Menegotto di home staging Vicenza che si occuperanno di presentare la tua casa da così a così. Oltre un'accurata valorizzazione del tuo immobile saranno in grado di realizzare per te un servizio fotografico professionale. Per intenderci niente foto sbilenche, fatte col cellulare, ma belle immagine che mostrino la potenzialità della tua casa e un video emozionale in grado di calamitare l'attenzione dei possibili acquirenti su tutti i canali di comunicazione sia social che immobiliari. Sei curioso di vedere qualche nostro caso di successo? Vieni in agenzia o lasciami i tuoi dati, ti ricontatterò e sarà un piacere per me spiegarti il nostro metodo di lavoro. Sono certa che ti entusiasmerà. Ciao!